Le attività commerciali che mi hanno scelto come loro presidente per me è un grande onore e voglio ribadire una piccola parentesi che adesso siamo una quarantina di attività commerciali soprattutto ristorazioni, bar e commercio sulla ristorazione ma a breve verranno contattate tutte le attività commerciali sia piccole che grandi e soprattutto i nostri fratelli del Tortoreto Alto verranno sicuramente invitati a partecipare alla nostra associazione perché a noi ci fa piacere che tutti quanti partecipino a questa iniziativa questa iniziativa è partita per un'idea di promuovere il nostro territorio Tortoreto con degli eventi, con tantissime idee la cosa che sono rimasto molto contenta è che siamo un gruppo di giovani dove ognuno ha qualcosa da dire dove ognuno vuole fare qualcosa per cui ci saranno tantissime tantissime novità tantissime cose che andremo a proporre ai nostri concittadini e soprattutto ai territori vicini la Val Vibrato, il Terramano, fin dove possiamo arrivare come associazione attività commerciali Tortoreto abbiamo creato il nostro primo evento dove lì andremo a presentare la nostra associazione, dove lì andremo ad illuminare Tortoreto con insieme al nostro comune e tutte le altre associazioni che hanno collaborato con noi come la Prologo, come i bagnatori e come gli albergatori il cui ringrazio tutti quanti e niente, vi aspetto l'8 dicembre alla nostra piazza Fontana di via Trieste con il nostro comune